Ciao ragazze! Eh? No, non posso venire a vedere il telefono dei man con voi! Eh no! Cosa? Eh scusa, qua c'è un po' di musica alta! 8 marzo? Certo che lo so, appunto! Ho invitato un po' di amici a casa, facciamo una piccola festa! Curioso, è vero? Eh no, non posso dirvi altro! Va bene? Ciao ciao ciao! E adesso come facciamo? Eh sono un po' in imbarazzo! E poi voi siete quattro, io sono qui da sola! Ah è troppo difficile! Dai! Va bene! Ho scelto te! Adesso sì che è una festa! Allora... ... ... www.bol.it